Eccoci qua, ben ritrovati. Grazie a tutti quanti voi a Olaborso Olavita, appuntamento della fine settimana di Antenna Sud, dedicato all'economia e alla finanza. Anche oggi, per fortuna, siamo in compagnia della nostra super esperta, la dottoressa Marianna Ruglieri, ben arrivata in trasmissione. Ben trovato, buonasera. Come va? Tutto bene? Benino. Diciamo benino. Il tempo non volge ancora al bello, purtroppo. Noi speriamo in un rimbalzo dei nostri mercati, ma purtroppo questo negli ultimi tempi non avviene. Va bene, ma andiamo avanti. Ci facciamo coraggio a vicenda. Questo programma nasce proprio per informarvi in maniera dettagliata su quelle che sono le informazioni primarie, per poter muoversi spesso nella giungla per l'appunto dell'economia e della finanza. Tantissime domande anche questa settimana. Cominciamo con una domanda che ricorre nel nostro programma, una domanda orientata ai mutui casa. La prima di queste è una domanda che ci rivolge il nostro Valerio, che ci chiede per quanto tempo ancora converrà il mutuo a tasso variabile? Allora, il mutuo a tasso variabile in questo momento conviene. Conviene contrarlo e soprattutto conviene per chi il mutuo l'ha già contratto a tasso variabile. Il percorso dell'Euribor nell'ultimo anno è stato molto volatile, per utilizzare un termine che a noi purtroppo è molto caro in queste ultime settimane. Nel senso che è passato da un minimo storico dello 0,64 raggiunto a maggio del 2010 all'1,61 di qualche mese fa. Adesso con il taglio dei tassi della BCE l'Euribor è tornato a limiti che possiamo considerare accettabili. Quindi i mutui a tasso variabile, soprattutto già contratti nel quale lo spread è già stato definito, sono decisamente convenienti in questo momento. Il problema è chi ce l'ha. Il problema ce l'ha chi il mutuo lo deve contrarre. Quindi sarebbe auspicabile fare un tasso fisso perché comunque l'IRS è ancora a livelli molto bassi. Però considerati gli spread delle banche che in questo momento, come tutti sappiamo, hanno qualche difficoltà nella liquidità, cosa fanno? Siccome hanno difficoltà nel recuperare la liquidità, fanno pagare gli impieghi un pochettino di più. Quindi i mutui hanno degli spread che sono, ma questo è alla portata di tutti, possiamo vederlo guardando la trasparenza delle più grosse banche, gli spread si sono raddoppiati rispetto a quelli di qualche mese fa o addirittura di qualche settimana fa. Quindi in questo momento storico, per poter risparmiare un pochino, sarebbe opportuno sottoscrivere un mutuo a tasso variabile che dovrebbe comunque rimanere conveniente nell'arco dei prossimi 5-10 anni perché non possiamo prevedere un clima di tassi a rialzo con questa economia. Se i tassi dovessero risalire, l'economia, non solo i mutui a tasso variabile, ma soprattutto l'economia delle imprese, sarebbe inevitabilmente al collasso. Quindi il mutuo a tasso variabile, sia per chi è stato, per chi ha già avuto la fortuna di contrarlo a prezzi più contenuti, sia per chi in questo momento deve comprare casa perché la vita di tutti continua. E naturalmente. Anche se c'è stata una forte contrazione in Europa, così come in America, della richiesta di mutui, chi il mutuo lo deve contrarre in questo momento per poter risparmiare un pochino, continua ad essere un mutuo conveniente. Conviene come al solito farsi un giretto tra le varie sigle bancarie presenti sul territorio? Il nostro assoluto diktat è quello di informare i telespettatori e di rendere gli utenti in banca sempre più informati, sempre più attenti alle logiche di pricing delle diverse banche. Quindi va bene, anche perché se siamo come siamo, consumatori attenti, quindi non abbiamo nulla da chiedere alla banca, è opportuno fare un giro delle varie sigle, diciamo così. Va bene, va bene, va bene. Allora, speriamo di essere stati esaurienti, adesso passiamo alla seconda domanda. Nicoletta, voglio puntare sul BTP. Nel sud che cos'è sto BTP? È il buono del tesoro poliennale. Che cosa significa? Significa che lo Stato, per rifinanziare il proprio debito, emette questo titolo, che può avere una scadenza di 2, 5, 10, 15, 20, addirittura 30 anni, lo Stato italiano. A fronte di questa emissione, ad un prezzo medio ponderato che si avvicina molto a 100, a seconda del momento storico in cui viene emesso, il BTP ha un certo tipo di tasso di interesse. Lo Stato italiano riconosce degli interessi. Riconosce degli interessi. Proprio questo, credo, ci chieda, perché dice, voglio puntare sul BTP, che scadenze scegliere? Mi conviene acquistare in asta o titoli già emessi? Cioè? Eh, allora, una volta emesso il titolo di Stato, va sul mercato che gli operatori chiamano mercato secondario, ovvero il mercato delle quotazioni. E qui, nel corso della sua vita, che può essere, come abbiamo detto, sino a 30 anni, il prezzo subisce delle oscillazioni, ovvero l'interesse rimane fisso per tutta la durata del titolo, mentre ciò che oscilla è esattamente il prezzo. Quindi, nel momento in cui ci troviamo, un titolo di Stato dovrebbe avere un rendimento che è una cedola, quindi un rendimento immediato che si avvicina al 7%. Immaginiamo che i tassi, come tutti ci auguriamo, tornino ad un 4%, che è quello che tutti gli operatori considerano un rendimento sostenibile da parte del debito pubblico. Cosa succede al nostro BTP? Beh, se lo Stato emette tra 4 anni un BTP con il 4% di cedola, il nostro BTP al 7% diventa particolarmente appetibile, quindi sale nel prezzo e sul mercato secondario viene apprezzato. Un esempio molto banale può essere, emetto, compro 10.000 euro di BTP al 7%, tra tre anni i titoli di Stato hanno un rendimento di emissione al 4%, il nostro titolo potrebbe arrivare a valere 10.700 euro, cioè ad essere apprezzato. A parti rovesciate, se la situazione non dovesse migliorare e i tassi di interesse dovessero aumentare, il nostro titolo al 7% potrebbe valere un po' meno. Allora mi conviene prendere un BTP a 2 anni, a 5 anni, facciamo un esempio, a 2 anni, a 5 anni o a 10 anni. Si discute molto dell'appiattimento dei tassi di interesse. Che cosa significa? Che quando le cose nell'economia vanno bene, il titolo a 2 anni, a 5 anni, a 7 anni ha un rendimento progressivamente più alto. Adesso che cosa succede? C'è una deformazione di questa curva perché a 2, a 5, a 7 anni il rendimento è lo stesso. Quindi l'investitore dice, ma perché io dovrei comprare un titolo a 10 anni, a 15 anni e avere lo stesso rendimento del titolo emesso a 2 anni? Tanto vale che rischio poco, li ho prima e faccio quello a 2 anni. Allora, le verità sono due. Uno, il mercato secondario, perché sul mercato secondario i titoli che sono quotati, cioè i titoli emessi dallo Stato italiano nel 96, nel 98, quindi anche tanti anni fa, adesso hanno un prezzo decisamente sotto la pari. Quindi io potrei comprare un titolo che ha un rendimento più alto e aspettare che il mercato recuperi per vedere apprezzare i miei soldini. Quindi avrei un duplice vantaggio, non solo quello della cedola, ma anche quello del rendimento complessivo, quindi il guadagno sul capitale è il rendimento dato dalla cedola. Per quanto riguarda il discorso dell'asta o il discorso del mercato secondario, io ne farei proprio un discorso patrio-artistico. Cioè, che cosa voglio dire? In questo momento l'Italia ha bisogno che il suo debito venga rifinanziato, ovvero che questo grosso debito pubblico, ad ogni asta che si ripete, sia, cioè che l'offerta di titoli di Stato italiani vada completamente chiusa, cioè esaurita. In questo noi italiani potremmo aiutare il nostro Stato e quindi prendere titoli in asta significa aiutare lo Stato italiano a rifinanziare questo mostro che è il debito pubblico. Molti economisti pensano che i BTP, la teoria più diffusa è quella, prendere BTP che abbiano un orizzonte temporale medio, cioè 5 anni. La mia personale convinzione è questa, prendere un titolo più lungo significa, anche per chi non vuole rischiare molto, significa comprare sul secondario titoli che adesso valgono 80, 82, con una cedola più o meno alta. Significa tutelarsi dall'andamento del mercato così volatile. Prendiamo l'ipotesi peggiore Antonio, cioè se si dovesse decidere una strutturazione del debito Italia, si taglia il debito italiano, cioè il nominale, i nostri 10.000 euro diventano 7.500 per esempio, ipotizzando una riduzione del 25%. Che cosa succede? Io ho comprato un titolo comunque già sotto la pari, quindi non ho rischiato tantissimo. In questo momento questa a me sembra la soluzione ideale, ho comunque un buon rendimento. Tra l'altro è una bella soluzione tricolore che noi sottoscriviamo, è proprio giusto. E noi questo vogliamo. E noi questo vogliamo, infatti nessuno più degli italiani può decidere di aiutare l'Italia ad uscire da questa crisi e quindi acquistare dei BTP a 10 anni significa in questo momento finanziare il debito italiano, significa aiutare l'Italia ad uscire da questo labirinto. Del resto noi sappiamo che più volte, anche senza entrare troppo nei particolari, c'è stato detto che l'Italia ha dei fondamentali migliori di quelli della Francia, cioè che cosa significa? Rido io adesso. Finalmente ci possiamo permettere una risatina. Cioè gli italiani, il debito pubblico italiano è per la maggior parte, o comunque per una parte consistente, nelle mani dei privati. Quindi dobbiamo proseguire questa tradizione positiva. Molto bene. Allora, è questo quello che fa. Seguiamo particolarmente questo consiglio della dottoressa Rorlieri. Un'altra cosa importante, prima di chiudere, come vincere il panico notturno? Ma veramente in 30 secondi, da un'esperta di panico, perché lei quotidianamente vive le vicissitudini dei mercati, come dormire la notte? Una bella camomilla? Perché ci si sveglia in alcune notte e diceva, mamma mia, io ho immobilizzato i soldi, ma adesso li perdo o non li perdo? Che succede? La notte? Come si dorme? La notte? Bisogna dormire. Ecco, una bella camomilla con un bel dolcificante miele che non fa male a nessuno, però non dobbiamo perdere la bussola, diciamo così. L'indirizzo della nostra strategia di vita non deve essere condizionata dal panico sui mercati. Tanto le strategie per mettere al sicuro i propri investimenti da parte dei nostri telespettatori, che sono sempre molto ligi al dovere, molto precisi, ci sono. Quindi la notte è fatta per dormire. Benissimo, d'accordo. Allora chiudiamo qui questa puntata di O la borsa o la vita. Oggi abbiamo imparato che se abbiamo un mutuo variabile ce lo teniamo, così com'è. Se invece il mutuo non ce l'abbiamo e lo dobbiamo fare, non lo facciamo. Andiamo in fitto e rimandiamo a momenti migliori, ho sbaglio. Qualcuno di familiare mi suggerisce che è il momento di stare a guardare. Di stare calmi calmi, quindi se ce l'avete variabile bene, altrimenti lasciate perdere per ora. Seconda cosa che abbiamo imparato è che bisogna essere i patrioti, bisogna aiutare l'Italia, quindi sì ai BTP decennali, perché tanto storto o morto poi quei BTP vi daranno il giusto rendimento. Noi ci crediamo nell'Italia, no? E' come se ci crediamo. Bene così, allora noi chiudiamo questa puntata di O la borsa o la vita. Ringraziamo la nostra Marianna Ruglieri. Come al solito vi ricordiamo di spedirci le vostre osservazioni, le vostre domande e noi siamo qui a vostra disposizione con O la borsa o la vita. Alla prossima. Tra la borsa o la vita... Sempre la vita. La vita.